Vertice in videoconferenza sulla mobilità in deroga per i lavoratori ex Alcoa. Il governo si è impegnato a confermare la mobilità per tutto il 2021, uno spiraglio per modificare le regole che penalizzano i lavoratori. La regione chiede di tornare subito in zona gialla. Il presidente Solina s'ha annunciato che se la richiesta non verrà accolta scatterà il ricorso legale. Emergenza Covid-19 all'ospedale Brozzu di Cagliari. La denuncia del segretario del sindacato Nursind Fabrizio Anedda che chiede interventi immediati alla regione e all'ATS. È stata rinviata la riunione del Consiglio Comunale di Carbonia. All'ordine del giorno figurava il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Buon martedì 26 gennaio 2021 a tutti i telespettatori di Canale 40. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le problematiche dell'avvertenza dei lavoratori ex Alcoa. Ieri mattina infatti si è svolto un incontro in videoconferenza alla presenza della sottosegretaria Alessandra Todde e dell'assessore regionale del lavoro ZEDA, il responsabile del Ministero del Lavoro, le organizzazioni sindacali, l'azienda e Invitalia per discutere degli ammortizzatori sociali. È stato evidenziato il problema relativo al pagamento della mobilità in deroga per i lavoratori per il 2021. È preso atto della volontà del Governo di riconfermare anche per tutto il 2021 l'ammortizzatore sociale. Rimangono da definire i tempi ed il quantum per i lavoratori interessati. È stato avviato inoltre un consulto tecnico con l'Inps e con il Ministero del Lavoro per verificare la fattibilità della modifica della norma sugli ammortizzatori sociali in deroga per modificare l'importo e permettere la continuità del pagamento senza dover attendere tanti mesi come è successo negli anni passati. Dalla prossima settimana si dovrebbe conoscere il parere dell'Inps per verificare la fattibilità di quanto proposto. La Regione ha chiesto al Governo di rivedere la decisione di inserire la Sardegna in zona arancione ritenendo che ci siano tutte le condizioni per inserire la nostra isola in zona gialla. Qualora la richiesta non dovesse essere accolta scatterebbe il ricorso legale già pronto. Vediamo ora l'intervento del Presidente della Regione, Cristian Solinas. Presidente, la Regione si fa interprete e portavoce del malessere, del malcontento delle realtà produttive a Sarde. chiedete al Governo di rivedere questa decisione sulla zona arancione. Abbiamo detto fin dal primo momento che questa classificazione è assolutamente sbagliata e penalizza tantissimi operatori commerciali, dai ristoratori ai bar, mettendo ulteriormente in ginocchio la nostra classe economico-produttiva. Abbiamo tutti i requisiti per essere in zona gialla. Se il Governo non provvederà a riclassificare la Regione, ci tuteleremo e tuteleremo la Sardegna in tutte le sedi. Il ricorso è pronto? Assolutamente sì. Noi non abbiamo voglia di fare contrapposizioni sterili. Abbiamo fornito al Governo e al Ministero tutte le evidenze numeriche di come la Sardegna non sia in condizione di rischio in questo momento e possa quindi mantenere la zona gialla. Se non ci sarà il buonsenso di voler accettare questa leale collaborazione, è chiaro che dovremo difenderci in altre sedi. In queste ore a Roma si gioca il futuro di questo o di un altro Governo? La Regione Sarda, lei Presidente, come guarda e con quali valutazioni affronta questa situazione politica nazionale che inevitabilmente ha delle ripercussioni anche sulla Sardegna? Siamo in piena emergenza, una pandemia sanitaria e una pandemia economica che sta mettendo in ginocchio l'intero Paese. Bisogna fare in fretta. Se ci sono le condizioni perché ci sia un Governo che lo si faccia e lo si faccia in fretta, in maniera autorevole per poter dare risposte ai cittadini, se queste condizioni non ci sono, che si restituisca la voce agli elettori e quanto prima si formi un Governo autorevole in grado di contrattare con l'Europa tutto ciò che è nel Recovery Fund e possa dare finalmente risposte sanitarie ed economiche ai cittadini logorati da questa crisi. E sono 207 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, 3.240 i test eseguiti. Si registrano tre decessi, sono 472 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, più 8 rispetto al dato di domenica e 48 più 3 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.483. Andiamo avanti. Il segretario del Nursing, Fabrizio Anedda, ha diffuso una nota nella quale denuncia allo stato di emergenza coronavirus all'ospedale Brozzo di Cagliari. Gianpaolo Cerronis Emergenza Covid all'ospedale Brozzo di Cagliari a denunciare la situazione di pericolo per la salute dei lavoratori e dei pazienti è Fabrizio Anedda, segretario del Nursing, il sindacato delle professioni infermieristiche con una lettera indirizzata all'assessore regionale della sanità Mario Nieddu e ai vertici aziendali. Il personale sanitario infermieristico EOS del reparto di medicina d'urgenza del Brozzo è al collasso. Troppi contagi da Covid-19 e un conseguente carico di lavoro insostenibile. In questo reparto si sono verificati troppi casi di contagio, ha spiegato Fabrizio Anedda. Su 20 infermieri, 3 sono in malattia e non sono stati sostituiti. E uno è in quarantena preventiva. Di questi 16 rimasti, 2 sono part-time e soltanto uno copre il turno notturno. E ancora, 3 sono affetti da Covid, quindi sono in 13 a coprire tutti i turni e a badare i pazienti. Per quanto concerne i contagi nel reparto, 3 infermieri, 3 EOS e 3 specializzandi, oltre a 12 pazienti trasferiti in altro reparto Covid. In questa situazione, ha aggiunto Fabrizio Anedda, l'assistenza in alcuni turni di lavoro risulta insostenibile. Si toccano indici di rapporto tra infermieri e pazienti pari a 1 a 20, quando dovrebbe essere 1 a 6, e non si dispone di operatori di supporto in dotazione stabile durante il servizio notturno, ma solamente un operatore in comune con la medicina 1, quindi con un indice di rapporto relativo a 1 a 80 circa. Nonostante la grave mancanza di personale e nonostante in reparto esistano ben 3 camere in zona rossa, i ricoveri non sono stati bloccati né tantomeno il reparto è stato sanificato del tutto. Infatti, quando la capienza del reparto è terminata, ha concluso Fabrizio Anedda, i pazienti che arrivano dal pronto soccorso in attesa del risultato del tampone vengono sistemati in ambienti del tutto inadatti, sprovvisti di sistema di chiamata, di eredi e del bagno in camera. Ci spostiamo ad Oristano, parte ufficialmente la seconda fase della campagna di vaccinazione anti-covid nella ASL di Oristano appunto. Sono state consegnate alla farmacia ospedaliera della città 546 dosi e per venerdì è previsto l'arrivo di altre 216. I 762 vaccini forniti questa settimana, ha spiegato la direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica Maria Valentina Marras, saranno destinati al personale degli ospedali San Martino e De Logu, a quello del SISP, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo l'ordine stabilito al momento in cui è stata inoculata la prima dose. Con l'arrivo di nuove fiale si procederà progressivamente con i richiami sul resto dei soggetti già vaccinati. L'emergenza sanitaria è stata al centro dell'incontro che si è tenuto a Simagis tra i sindaci del distretto sanitario di Oristano e il nuovo commissario straordinario dell'ASL di Oristano, Antonio Francesco Cossu. L'incontro serviva per una prima presa di contatto con il nuovo commissario, ha spiegato il presidente del distretto sociosanitario Andrea Luzzu. Purtroppo le risposte che aspettiamo da mesi sono arrivate solo in piccola parte. Allora abbiamo ritenuto corretto aprire un tavolo di confronto con il nuovo commissario dell'ASL per individuare insieme in che modo procedere per dare una risposta concreta e veloce alle tante emergenze del sistema sanitario. Sulla stessa linea i sindaci di Allai, Antonio Pili, Baratili, San Pietro Alberto Pippia, San Veromilis Luigi Tedeschi e Simagis Giacomo Obinu. I sindaci di Nurachi, Renzo Ponti, Ollastra, Giovanni Cianciotto e Zediani, Claudio Pinna. Preoccupazione è stata espressa per l'assenza del medico di base a Sili. Andiamo avanti. 19 sedute, un lavoro intenso, costante, costruttivo e trasversale che ha portato la Commissione speciale per il riconoscimento dell'insularità presieduta da Michele Cossa, dei riformatori, ad approvare all'unanimità la proposta di legge nazionale sulle misure straordinarie finalizzate alla compensazione dei costi dell'insularità della Sardegna e a redigere un dossier di oltre 400 pagine che potrà essere utilizzato per successivi lavori di approfondimento sul tema. Il prossimo obiettivo è realizzare una macro-regione del Mediterraneo occidentale con la Sardegna capofila. È quanto emerso questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della relazione annuale della Commissione speciale istituita a novembre del 2019. Il presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, si è complimentato con il presidente della Commissione e con tutti i suoi componenti per l'importante lavoro fatto. Ed ora ritorniamo a Carbonia. La seduta del Consiglio comunale in programma domani, 27 gennaio, con inizio alle 16.30, è stata rinviata data da stabilire in conferenza dei capigruppo. Lo ha comunicato stamane la presidente del Consiglio comunale, Daniela Marras. All'ordine del giorno erano previsti due punti. La mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Leviana Segre e la nomina di due consiglieri nella Commissione per il rilancio del parere sui bozzetti per la realizzazione di murales ed esercizio di spray art su spazi pubblici e privati. Apriamo con la cronaca la seconda parte del nostro telegiornale. Ieri a Giba, a conclusione di accertamenti investigativi, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 22enne disoccupato di Carbonia, indiziato del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il giovane, fermato dai militari durante un posto di controllo a Carbonia in via Roma, mentre viaggiava sulla propria auto con due amici e sottoposto a successiva perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che occultava nella manica. Il coltello è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e custodito in idoneo locale, in attesa di essere depositato presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. Voltiamo pagina, si è chiuso con il segno meno il 2020 delle imprese artigiane della Sardegna. Con oltre 34 mila imprese attive, l'anno appena concluso ha visto circa 1800 aziende aprire i battenti e quasi 2000 a tirare giù definitivamente la Sara Cinesca, per un saldo negativo di 164 realtà. Lo dice l'analisi sulla demografia delle imprese artigiane Sardegna del 2020, realizzata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i dati Move Imprese Union Camere sull'andamento del comparto dell'isola. In un anno pesantemente colpito dagli affetti della pandemia di Covid-19, la fotografia scattata dall'Associazione Artigiana mette in rilievo un trend settoriale in chiaroscuro. Rispetto all'anno precedente, infatti, l'analisi rivela come nel 2019 il saldo apertura e chiusura finale fu di meno 443 imprese, contro il meno 164 dei 12 mesi appena conclusi, ma che non rispecchia la reale situazione delle imprese Sarde. Attorno alla mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti in località Binzolas a Golfo Aranci per l'incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. Sono state necessarie circa due ore per spegnere le fiamme, che grazie al tempestivo intervento degli operatori non si sono propagate all'intero appartamento. I danni non sono ingenti, tanto che gli occupanti sono potuti rientrare in casa per trascorrere la notte. Ancora la cronaca, i di due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla 554 tra l'uscita di Selarjus e Quartucciu. Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Cagliari, intervenuta per la messa in sicurezza delle auto, mentre le forze dell'ordine hanno permesso lo scorrimento regolare del traffico. Nuove sanzioni per violazione delle norme anti-Covid, in diversi comuni della provincia del sud Sardegna e della città metropolitana di Cagliari. I carabinieri di San Vito hanno infatti sanzionato un operaio 21enne di Villa Simius ed un ventenne disoccupato di Ballau. I due ragazzi sono stati controllati nella piazza Europa di Muravera mentre erano privi di mascherina protettiva. Altre persone sono state sanzionate a Muravera, Quartu, Iglesias e San Luri. Ben 12 persone complessivamente sono state sorpresi a girare per strada senza mascherina oppure con mascherina indossata in modo scorretto sotto il mento. Ci spostiamo a Uta. I carabinieri hanno denunciato a piede libero per evasione un ottantenne originario di Taranto, residente a Uta, pensionato con precedenti denuncia a carico, attualmente sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Lo stesso si era reso irreperibile nel momento del controllo posto in essere dai carabinieri presso la sua abitazione. Un 23enne di Pabillonis, di origine Rom, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di San Gavino Monreale per guida in stato di ebrezza. Il giovane coinvolto in un incidente stradale, dopo essere stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale civile Nostra Signora di Bonaria e di San Gavino Monreale, aveva rifiutato di sottoporsi all'esame relativo all'accertamento del tasso alcolemico richiesto dai carabinieri. Rifiutare una richiesta di sottoposizione alla prova dell'etilometro corrisponde per legge a un'ammissione di positività. Ed ora cambiamo argomento e voltiamo decisamente pagina. Si è svolta ieri la cerimonia di consegna di un defibrillatore all'Università di Cagliari nel nome di Alberto Nori, docente algherese e morto un anno fa all'età di soli 39 anni. Vediamo il servizio. Dovete essere orgogliosi di aver avuto un figlio così. Non lo conoscevo personalmente, ma chi lo ha conosciuto ne parla come di una persona vivace che amava la vita ed era appassionato all'insegnamento. Gli studenti volevano davvero bene a vostro figlio e noi lo ricorderemo sempre, anche in questo modo. Sono queste le parole pronunciate dalla retrice dell'Università di Cagliari, Maria del Zompo, nel corso della cerimonia di consegna di un defibrillatore accanto all'Aula Rossa della Cittadella Universitaria di Monserrato per ricordare Alberto Nori, giovane docente a contratto algherese, del corso di laurea in logopedia, morto il 24 gennaio 2020 a soli 39 anni dopo aver appena terminato di tenere una lezione universitaria. L'apparecchio è stato donato dalla DAB con la collaborazione delle associazioni studentesche Reset Unica e Farmacia Politica che avevano avviato una raccolta fondi. All'evento erano presenti tra gli altri i genitori del docente Antonio e Angela, la moglie Marianna, la sorella e altri parenti. Dobbiamo fare di tutto per prevenire per quanto possibile queste morti improvvise, ha concluso la professoressa del Zompo, ricordando l'impegno per la cardioprotezione per chiunque frequenti l'Ateneo Cagliaritano, perché il valore della vita è fuori discussione. L'ambasciatore del Messico in Italia ha incontrato ieri la rettrice dell'Università di Cagliari, il sindaco del capoluogo e del presidente della regione. Vediamo insieme il servizio. Importante visita istituzionale a Cagliari dell'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda. Il rappresentante del governo messicano ha incontrato la rettrice dell'Università del Capoluogo, Maria del Zompo, per una futura collaborazione tra gli Atenei. Sono lieta di questo incontro, ha dichiarato Maria del Zompo, perché ancora una volta la nostra Università può allargare le proprie collaborazioni internazionali. In questo modo si potranno rafforzare gli accordi già in atto con le realtà universitarie messicane e ampliare gli interessi nei confronti della ricerca e della didattica del mondo latinoamericano. Non è mancato l'incontro con il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzo, con quest'ultimo che ha illustrato le peculiarità del capoluogo isolano. Durante lo scambio di saluti sono stati inoltre evidenziati gli storici e forti legami di amicizia e simpatia tra Italia e Messico, in particolare con la Sardegna e Cagliari, che accoglierà, ha annunciato l'ambasciatore, il primo consolato onorario latinoamericano di Italia. Gli altri due saranno a Trento e Trieste. La proposta è già all'esame del governo messicano. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda ha anche incontrato a Villa Devoto il presidente della regione, Cristian Solinas. Durante la visita del diplomatico sono stati analizzati i punti d'incontro che potrebbero essere alla base di una futura collaborazione tra la Sardegna e il Messico. Abbiamo apprezzato questo confronto con l'ambasciatore che è servito a valutare gli aspetti, sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive, che possono dare impulso ad una collaborazione tra la Sardegna e il Messico, ha sottolineato Cristian Solinas. In particolare per quanto riguarda la formazione accademica, che potrebbe concretizzarsi presto con l'istituzione di una cattedra che approfondisca materie di comune interesse. A Sassari proseguono gli interventi per la cura del verde pubblico. Vediamo. Vanno avanti gli interventi per la cura del verde pubblico da parte del settore ambiente verde pubblico del comune di Sassari. In questi giorni la ditta Segasidda sta completando le potature per la messa in sicurezza degli esemplari lungo Viale Umberto I. Inoltre, già da questa e nelle prossime settimane, si interverrà su situazioni di pericolo per le persone e le cose, con azioni mirate per l'eliminazione delle piante secche o in fase di deperimento in diverse zone della città. È già in corso la piantumazione di nuovi alberi, mentre nei prossimi giorni si procederà anche alla consegna alla ditta incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria ed urgenza delle alberate cittadine, che interesseranno circa 400 esemplari, in Piazza Stazione, Piazza Falcone, Via Carso, Via delle Croci, Via Cilea, Via Kennedy, Via D'Annunzio, Via Carducci, Via Buonarrotti, Via Tintoretto e Via Velonese. Successivamente le squadre lavoreranno in Viale Italia, Viale Trieste e Viale Mameli. La ditta PIP Planeta si occuperà della manutenzione straordinaria dell'area verde di Via di Vittorio, che consisterà nella realizzazione di un'area dedicata ai cani di piccola taglia e alla manutenzione di strutture ludiche dell'area verde Louis Braille. Saranno rimosse le palme, ormai non più vitali, all'ingresso del cimitero comunale su Viale Porto Torres. Infine, sono in fase di consegna alla ditta Green Sea i lavori del primo lotto del servizio di sfalcio erba lungo le banchine e pertinenze stradali e quindi alla cooperativa Vosma quelli per il servizio di eliminazione delle riscariche abusive presenti sul territorio comunale. In riferimento all'intervista, trasmessa ieri nel nostro telegiornale, realizzata con l'amministratore delegato della Pordovesme SRL, ingegnere Davide Garofalo, sul progetto della zona franca doganale che potrebbe sorgere nell'area portuale industriale di Portovesme, precisiamo che i chiarimenti dell'ingegnere Davide Garofalo erano relativi alle osservazioni fatte dal presidente della Banca Alimentare Francesco Giganti. Bentornati in studio, è stato riaperto a Macomere il centro antiviolenza del margine, voluto dai sindaci e dai delegati dell'Unione dei Comuni per facilitare l'accesso al servizio a tutte le donne del territorio. Bisogna ripensare agli ambiti territoriali di questi centri, fanno sapere i promotori, se è vero che dobbiamo dare pari opportunità di accesso alle donne, a maggior ragione in questo periodo drammatico legato alla pandemia, la convivenza forzata con i carnefici. Il centro è stato riaperto anche grazie ai fondi regionali della legge 8 del 2007 e una compartecipazione della stessa Unione dei Comuni del margine. Talassa Azione Onlus APS, Associazione Scienza Società Scienza, Università degli Studi di Cagliari, Diabete Zero, Avis Regionale Sardegna e Convitto Nazionale di Cagliari insieme per dare vita al progetto Scopriamo i Padri della Medicina in Sardegna. Protagonisti attivi, i ragazzi del Convitto Nazionale di Cagliari, con una classe del liceo classico, svilupperanno la ricerca bibliografica e la realizzazione dei prodotti di divulgazione in regime di alternanza scuola-lavoro. Il primo attesissimo appuntamento è in programma giovedì 28 gennaio con l'intervento del professor Giancarlo Nonnoi, docente di Storia della Filosofia, dal titolo La Medicina in Sardegna, Gli Albori. L'evento si svolgerà in modalità webinar. Nuoro ha dato il via libera all'organizzazione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Daledda. La Giunta Comunale di Nuoro ha dato il via libera all'organizzazione delle celebrazioni delle diane per il 2021-2022, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Daledda, la scrittrice premio Nobel per la letteratura nel 1926. Nuoro ha avuto l'onore di dare i Natali alla nostra Nobel. Queste le parole del sindaco Andrea Soddu. Vogliamo celebrarla degnamente. Ci sono molti progetti e idee da sviluppare e desideriamo farlo insieme a tutti i protagonisti del territorio, con l'obiettivo di traghettare la città in una dimensione nazionale e internazionale. Ragion per cui abbiamo contattato anche il Ministero degli Affari Esteri, proprio perché gli istituti italiani di cultura nel mondo possano diventare i nostri partner per celebrare Grazia Daledda. auspichiamo un massimo coinvolgimento del territorio, interessato in prima linea con i suoi studiosi, gli intellettuali, le associazioni, musei vicini e lontani. Una contaminazione positiva che servirà a portare Nuoro al centro del panorama culturale. Le celebrazioni inizieranno nel corso di questo 2021 e proseguiranno il prossimo anno, tenendo fermo come data il 28 settembre, giorno del compleanno della scrittrice. Sono previsti 150 eventi che interesseranno alcuni luoghi cari a Grazia Daledda, Piazza Satta, Santo Predu, il Monte Ortobene, il paese di Galtellì. Si tratta di celebrazioni dovute nei confronti della figlia più illustre della nostra città, ha dichiarato l'assessore della cultura Luigi Crisponi. Il nostro obiettivo è che in Sardegna e in tutto il mondo si arrivi a 150 momenti celebrativi per ricordare la nostra Nobel. L'auspicio è che si possa superare questa fase pandemica e che gli eventi possano essere realizzati in presenza. In questa ambizione siamo voluti partire in anticipo, immaginando che il 28 settembre, giorno in cui ricorre l'anniversario della nascita di Grazia Daledda, possa essere ritenuto il momento della massima celebrazione sotto il profilo istituzionale, mentre il racconto si dipanerà per un anno intero. Il nostro telegiornale si chiude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e per essere stati con noi. Vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.